Questa notte piacca, alla mia sinistra, Mr. DJ Ciccianix, alla nostra, Tani DJ! Voglio vedere le mani su, questa roba che ha avesso il resto! Ma io non ci colpo nulla, ragazzi, mani al cielo! E se dire sicuramente che non si capisce nulla, anche quelli lì che stanno guardando questo video a casa, qui, questa sera, non si capisce nulla! Dami DJ, alla mia destra! Ciccianix, vieni qua, tira! Ciccianix, alla mia sinistra! Eino! Paolo Cristo, veste in mezzo a queste due, questi due impatti mentali! Se si svegliano la mattina, pensano sempre a farare! Dappertutto! In macchina! Mentre mangia, lo chiamo mentre mangia! Mentre di stato che tutti e due hanno la macchina, solo il bianco, quello è pericoloso! Pazzi! Pazzi per la musica! Pazzi per la musica! Pazzi per la musica! Pazzi per la musica! E ora voglio sentire la voce dal Timings, tutti insieme! Ehi! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti